Trasportavano cocaina a bordo di un SUV a scoprirli nei pressi della barriera autostradale A1 Roma Nord i carabinieri della stazione di Fiano Romano e quelli dell'aliquota radiomobile della compagnia di Monte Rotondo. In manette una coppia di canicattinesi, doviciliati in Olanda, arrestati per concorso in detenzione ai fini di spaccio di un grosso quantitativo di cocaina. I carabinieri impegnati in controlli ordinari sulla A1 hanno proceduto al controllo di un SUV con a bordo un 54enne di canicattia, la moglie di 53 anni originaria dell'Azerbaijan. Insospettiti dal nervosismo manifestato dalla coppia, i militari hanno deciso di perquisire l'autovettura rinvenendo nell'imbottitura dei sedili posteriori ben tre pacchetti ricoperti di cellofan per complessivi 3,7 kg di cocaina. Lo stupefacente sequestrato, una volta immesso sul mercato, avrebbe fruttato oltre 400 mila euro. Cocaina trasportata in un SUV, quindi questa è l'accusa per i due canicattinesi. I due sono stati arrestati e portati in caserma, successivamente l'uomo è stato condotto presso il carcere di Rieti, mentre la donna presso la casa circondariale di Rebibbia, entrambi a disposizione dell'autorità giudiziaria di Rieti.